Noi siamo i Corals, trio strumentale metal corgente torinese. Poco dopo il rilascio del nostro primo EP, Life Imitates Art, siamo stati annunciati come finalisti in un contesto internazionale sponsorizzato da Band Academy. Il vincitore di questo concorso avrà la possibilità di volare a Los Angeles e scrivere un brano con Joyce Turgis e Tyler Smith, importanti personaggi della scena metal mondiale. High World Publicity pubblicizzerà in prima linea il prodotto finale della band vincitrice. La nostra band è stata selezionata tra oltre 5.500 iscritti e siamo l'unico gruppo italiano a competere nelle finali. È una grandissima opportunità e per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Nel link che trovate in descrizione potrete dare il vostro voto contribuendo. Vi basteranno pochi minuti, ecco come potete fare. Dopo essere entrati nel link qua sotto vi si aprirà una pagina come questa dove potrete accedere sia con l'email che con il vostro account Facebook. Una volta inseriti i dati dovrete mettere la spunta nel primo riquadro e cliccare su Continue. La pagina adesso vi mostrerà 9 modi per fare punti. Qui vengono chiamati Entries. Più Entries farete e più alzerete la probabilità della nostra vincita. Le Entries le guadagnerete cliccando sui più uno verdi, eseguendo accessi sui vostri social e seguendo le varie pagine di Band Academy. Infine potrete accumulare un Entry per ogni persona che invitate ad accedere attraverso il vostro link personale, che potrete copiare oppure condividerlo sui social suggeriti sotto. Grazie mille per il vostro supporto. Questa per noi è una grandissima opportunità e voi potrete contribuire per far diventare questo sogno una realtà. Grazie mille per la visione.